Io non ho mai potuto capire, per me è una storia, come il registro può decidere che è smesso e che non è smesso, come reagirebbe il pubblico, perché voi lavorate quando stai a riuscire a riuscire a dubbio, ti provocare e ti ritrovi questo sentimento. Come all'inizio capire come rispettare le reazioni del pubblico? Quando guarda il cinema non capisce come capire a che momento fare buffo, quale no. E quando nel processo lo state facendo, come lo sentite proprio? Come vi viene? Per me è proprio la chiave del cinema, del mio cinema, di come mi piace fare il cinema. Mi piace mescolare i toni e i generi, cercando di trovare un... Mi piace mescolare i toni e i Non ciò che stai a scendare i toni e il suo lavoro, che il suo lavoro con tutto, è molto complesso. Questo è una grande tradizione in italiano, e si chiuderemo questi momenti, e come diventa questo. E poi lo faccio meglio, quando... C'è una piazza Oscar Wilde, che si chiama, 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 C'è una scrittura di Oscar Wilde che è chiamata «Com'è importante di essere serio». La persona che gira il film, allora deve essere seria per farlo. Assolutamente. L'approccio è la chiave quella. L'Italia è una situazione molto netta e tutto è bianco e nero. L'uomo contemporaneo ha una via d'uscita da questo mondo? Può scappare o è un'utopia e è solo una favola nel vostro film? Il film racconta di personaggi che sono da un lato molto italiani, ma dall'altro non è la loro forma. Si può approcciare a una certa capitalistica avanzata con tutti i lati negativi che si porta dietro. Allora, in Italia c'è una spaccatura del paese a metà. C'è chi ha deciso di seguire quel tipo di valore in un certo modo e chi li ha rifiutati completamente. Il nostro personaggio li ha rifiutati completamente, ma non riesce veramente a liberarsi del tutto da questi valori, perché in qualche modo poi hanno degli echi nella sua vita continui. Però, insomma, io penso che poi una via d'uscita c'è sempre, che può essere poi anche una riuscita a cercare di lavorare su se stessi, più che su quello che c'è intorno. Sto trovando un proprio equilibrio personale rispetto alla vita anche sociale che si può vivere. Il paese poi le sue caratteristiche anche in questo caso. Non ho bisogno di scappare. Lui lo sente o no? Sì, però io vivo del mio lavoro. Mi piace, cioè per la mia, la mia fuga è fare i film. E questo, insomma, quando non sono sul set, ho l'esigenza di tornarci. È così, diciamo. Perché in questa dimensione, in questo momento della mia vita, è la mia dimensione di fuga anche. Perché sto dicendo, ma si è molto erogicista. E possiamo raccoggiare i film e fare un'amica a questo tema. E se lo faccio, se lo faccio, se lo faccio, è anche a questa dimensione di fuga anche quello che è difficile. però lei è riuscito a dare un'altra spinta a questo tema, uno tema allegro un po', come l'è riuscito? Era difficile proprio? Il film nasce da dei racconti di amici che fanno la vita di Luca Manzi, che sono scappati dall'Italia, sono andati a lavorare in Africa e quindi noi abbiamo in qualche modo provato a raccontare delle situazioni non totalmente estreme dell'Africa Il film è ambientato e girato nel nord del Kenya, che è un paese che non si muove Era molto importante trovare questo tipo di ambientazione, che fosse un'ambientazione estrema ma non super tragica perché altrimenti tutte le dinamiche dei personaggi sarebbero state molto, come direi, fuori luogo e qui cercate di raccontare una realtà forte, connotata, ma allo stesso tempo... Che cosa potrebbe essere читato per il pubblico? questo è una storia di vita di lui, che c'è l'escrizione, quindi probabilmente non avevano alcune sceglie sceglie, ma è stata una storia di vita, e questo è una storia di vita, e questo è ancora più razzurato a l'escrizione di Kena, quindi non è come in Zafuri, dove gli uimiti da l'escrizione, altrimenti avessi 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 anche per l'escrizione, e probabilmente un'intonazione all'escrivano all'escrivano. quando parliamo di D.I.P.? quando parliamo di D.I.P.? quando parliamo comunque dei paesi dell'africa del terzo mondo ne parliamo come dei fratelli maggiori no che in confronto a dei fratelli minori e non sembra che in un certo modo noi li disprezziamo facendo questo il tema è molto complicato nel senso che da un lato è sicuramente vero questo l'approccio degli occidentali è questo dall'altro lato è anche vero che loro hanno bisogno anche soltanto di questo probabilmente soprattutto dal punto di vista medico diciamo questi anni sono stati fatti in tanti paesi passi in avanti giganteschi e morti in un sacco di malattie non si muore più grazie anche a questo tipo di approccio poi chiaro secondo me l'ideale è quello di cercare di far crescere la popolazione locale ed è anche l'unica chiave per il mondo probabilmente per salvarsi dal futuro è quella di cercare di creare un livello di civiltà minimo condiviso a di là delle differenze questo però un discorso di politica transnazionale molto importante secondo me questo tema è molto importante è una tema del futuro, e poterci tutto questo nascezionale a un показatore di base di città, per obiettere il medico e servizio, per il risultato di risultato di risultato, per il risultato di risultato di risultato di risultato. Questo è un problema del futuro, è un problema di сохранimento, ma questo è un problema politico, è un problema globale, e questo è il nostro futuro. Nella conferenza stampa parlavate, nelle domande chiedevano se era una commedia nera o una commedia normale, per lei come lo vede, come lo definisce? Non sapete una definizione, nel senso che rispetto alla nostra tradizione italiana, questa è una commedia... Poi in Italia in questi anni non si fa più questo tipo, molto poco, si fa molta commedia ma di altro genere, si fa una commedia più... senza evitare le problematiche... secondo me la commedia italiana è importante quella che ha messo proprio le mani dentro le problematiche... per cui a me interessa, per cui a me interessa... se fosse la persona che ha messo proprio le mani dentro le mani dentro le mani dentro... se fosse la mia conoscenza... se fosse la mia... se fosse la mia... e quindi... in questo anno... la mia conoscenza è stata una delle italiane italiane... la mia conoscenza è stata una... e... 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 quando scelevano i film italiani per il programma qua a Mosca, la signora l'aveva fatto a Roma, nello studio della Cinecittà... e... le sembrava che... il... il fantasma di Fellini va per la Cinecittà... ma ci sono i fantasmi nella Cinecittà? grazie... grazie, grazie... 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 Grazie mille!